Giornata internazionale di diritti della donna, tante e interessanti le iniziative che si sono svolte a Teramo per l'8 marzo. All'Istituto Superiore Alessandrini Marino si è tenuto un convegno sul ruolo e la funzione della figura femminile nella società. Una riflessione a più voci sulla frase del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo ultimo messaggio di insediamento che recita la marginalità femminile costituisce uno dei fattori di rallentamento del nostro sviluppo, oltre che un segno di ritardo civile, culturale e umano. In questo la scuola e l'istruzione rappresentano un fondamentale strumento per garantire il superamento di tale marginalità. C'è chi poi in questo 8 marzo non dimentica la violenza di genere. L'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Teramo ha donato e apposto una panchina rossa all'interno del parco fluviale cittadino nel giardino che porta il nome di Florence Night Gale, un tema caro a tutti questi operatori della salute. E c'è chi ha voluto invece dedicare questa giornata alle donne pacifiste del mondo e in particolare a quelle ucraine e russe insieme. Studenti, associazioni, istituzioni e cittadini teramani si sono ritrovati intorno al monumento dei caduti di tutte le guerre in Viale Mazzini per un momento di condivisione con il Manifesto della Magnolia, Casa Internazionale delle Donne. Per l'8 marzo questa associazione di donne pacifiste si unisce ad ogni donna che nel mondo lotta per rifiutare la guerra dove sono i più deboli a pagare prezzi enormi. Il tutto sintetizzato nella lettura di alcuni passaggi dell'appello del movimento femminista russo anti-war resistance e del Manifesto dell'Assemblea della Magnolia, parole che bucano l'anima. Tra uccidere e morire c'è una terza via, vivere, ha detto inascoltata Christa Wolf con la sua Cassandra. Ora un altro male oscuro, ora un'altra paura ci vuole ammutolire, mentre noi vogliamo vivere, non resteremo in silenzio.